Non è stata una partita di quelle da registrarsi per la propria nastroteca. L'eccessivo nervosismo e soprattutto l'esigenza di fare punti hanno pregiudicato spettacolo e gioco. Così nel secondo tempo, dopo il pareggio dei laziali, entrambe le squadre hanno patientemente atteso il momento di fare la doccia senza darsi più fastidio. La Lazio arricchisce in questo modo una serie positiva che dura da sette giornate. Il Cesena, dopo due sconfitte, torna a muovere la classifica. 20 minuti del primo tempo senza azioni di rilievo, poi al venticinquesimo Ruben Sosa entra in velocità con calcaterra e sferra un sinistro che il portiere Fontana può soltanto deviare in angolo. Passano nove minuti e il Cesena, che fino a quel momento non aveva mai centrato la porta della Lazio, passa in vantaggio. Silas suggerisce in aria per Amarildo, abilissimo a porgere al volo di piatto per Ciocci, il quale di prima intenzione infila fiori imparabilmente. E' la quinta rete in campionato per la piccola punta dei Romagnoli. La Lazio è scossa e non riesce ad imbastire una sola azione d'attacco pericolosa. Così è il Cesena, che sfiora il raddoppio al 44esimo con Amarildo, velocissimo nell'indirizzare in porta un passaggio di Ciocci. Fiori è lesto a distendersi in tuffo. La ripresa inizia con il Cesena ancora in avanti, al 12esimo Amarildo ha l'occasione buona per raddoppiare, ma il suo dribbio in aria viene bloccato da Gregucci. Con una mano, per i Cesenati sì, per l'arbitro Ceccarini di Livorno no, così si continua a giocare. Uno slalom di Sergio manda la palla a lambire il palo sinistro della porta di Fontana, poi arriva il gol. Ancora Sergio crossa dalla sinistra su rimessa a laterale, riede dal sale in cielo da fare invidia ad un giocatore di basket e colpisce di testa. Fontana ribatte e Gregucci, liberissimo, manda prepotentemente in rete. E' l'1-1 definitivo, a prescindere dal cronometro la partita finisce qui. Zoff e Lippi al microfono di Pierpaolo Cattozzi. Dino Zoff, non voglio farne una colpa a lei, ma mi pare una bruttissima partita quella di oggi. Pensi che io sono del parere tutt'altro che simile. Io ho visto una buona partita, direi che la mia squadra al primo tempo ha fatto un'ottima partita, poi il secondo tempo è stata una partita combattuta col cuore. E sono contento di questa partita. Sì, è stata molto combattuta perché noi volevamo riscattare un periodo un pochino negativo e ci abbiamo messo molto sul piano agonistico sul campo. Di fronte avevamo un'ottima squadra, la Lazio che non la scopriamo certo noi, stanno facendo delle ottime cose e in effetti il primo quarto d'ora abbiamo abbastanza sofferto. Poi dopo abbiamo fatto delle cose buone, abbiamo fatto il gol. È successo come spesso succede nel calcio, cioè che il gol lo si merita dopo averlo segnato. Tant'è vero che dopo averlo segnato abbiamo avuto due o tre grossissime opportunità per raddoppiare e poi ci sono stati un paio di episodi abbastanza importanti, decisivi a parere mio e poi è venuto il gol, compreso il gol della Lazio.